Allora, con noi Jean Drolet. Jean, allora, il primo tempo sicuramente con ritmi bassi e il secondo tempo ritmi più elevati e un Perugia più brillante. Sì, diciamo, buonasera a tutti. È stata, diciamo, una partita molto dura perché Bari, per me, è una squadra molto forte che tiene molto il possesso di palla. Poi, giustamente, è una squadra che tiene molto la palla, giustamente, ci ha avuto un po' di caldo, secondo il tempo, e noi, da questo punto, abbiamo aspettato questa opportunità. Vi aspettavate, però, un Bari meno arrembante e più difensivo? No, il Bari ha sempre giocato a pallone. L'ha detto anche il Miss, che sono giocatori, individuamente, che sono molto forti, che sia Rosina, Sansone. Quindi abbiamo fatto la stessa partita, diciamo, di Brescia e Cagliari, quindi abbiamo aspettato che poi conosceva lo spazio, attaccavano più forti. Come mai, però, il Perugia è venuto fuori solo nel secondo tempo? No, diciamo che è stata una partita molto basata sulla tattica perché, giustamente, non potevano uscire all'inizio perché, come dicevo, erano giocatori molto, 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 molto forti e quindi bisogna aspettare, a vedere dove c'è il punto debole, attaccare là. Si sono perse le speranze play-off? No, no, diciamo, abbiamo giocato sempre, giochiamo sempre uno per onorare il colore del griffo. Il primo ci crediamo sempre perché finché ci sono rimaste ancora tre partite, noi ci proviamo a dare, a onorare questo colore. Giochiamo tutte le partite fino alla fine, a dare tutto all'anima. Il rigore sul finale, che cosa ci puoi dire, Gian? Allora, io dico sempre, nel calcio succede sempre gli orari, ogni tanto va bene, ogni tanto non va bene, però devo dire che stavolta il Perugia stanno, è stato, diciamo, un po' sfortunato su questo, diciamo, giusto gli abitri. Penso che c'è rigore, se non c'è, non fa niente, si gioca, sono ancora tre partite, devo pensare all'altra partita, intanto è finita questa partita, quindi passiamo al Livorno ora, ci dobbiamo allenare per Livorno. Buongiorno, questa settimana, una partita, un avversario che ti ricorda delle belle cose, il primo gol in Serebbi? Sì, sì, io mi ricordo, dove ho fatto il primo gol, però diciamo, sono squadre che sono giù e diciamo che cercano di cercare la salvezza, quindi diventa più difficile giocare con Corsese, giocare con Bari, perché hanno, diciamo, il controllo alla gola, e quindi non è che è una partita facile, quindi andiamo a giocare come abbiamo giocato oggi, andiamo a dare tutto all'anima. Grazie. Grazie.